Buongiorno a tutti, benvenuti da vostro, andiamo al nuovo capitolo, è il terzo capitolo Eccolo qua, fresco fresco Il PCL, che cos'è PCL? Scopriamolo Abbiamo deciso di infiltrarci nel laboratorio che si trova fuori città per cercare tracce di mio padre Vediamo che non ti troppa un champ, ok Ehm, questo è il suo chiamato, tenete un po' l'obiettino, non vuoi avere la storia? Grazie Invece si tratta di parlare di colore e mi sono arrivato a fare un'embolione, ma ha deciso di acquisire il lavoro Non lo so, ma non c'è una Pencilia del profondo di un compagno di un cliente Ah, no, non c'è qualcuno, ma non lo so, anche un cliente per un concorso Come il PCL? Ouuuh, PCL... È un profondo di un compagno di un compagno di un interprete della Pokémon Sì! Ok! Ok! Ha finito di mangiare! Stava a piacere a botte con... Con la segretaria qua Come si chiama Amanda? Dimmi un po' a causa del PCL Laboratorio di ricerche Pokémon Se lo conosco si occupano di tutto Dalle ricerche sull'energia del futuro Agli oggetti di uso quotidiano Vabbè Beh, via Beh Dovrei Oh Beh, la voce è di quello di Ash Sì, sì, la voce è di quello di Ash Può essere A meno che tutti i Pikachu Non sonino Non abbiano lo stesso Timbro di voce I Pikachu normali, diciamo Come si Come si Era una striscia di testo molto lunga per essere due paroline Pikachu Pikachu E' il Pikachu di Ash 100% Al 100% Il dialogo l'ha fatto capire Ma come sta messo? Tutto allungato E' una striscia di testo Sì 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 Sì, è proprio il mio solo. È un po' di me. È un po' di me. Allora, è un po' di un'esplosione. Si, sì. Non ci sono anche un'ampli. Perchiamo. Ah, è un'ampli. Quindi, vedremo, vedremo. Oh, no, no... Frank Holiday, ispezore di polizio di Rhyme City! Oh, no... Frank Holiday, Frank Holiday... Ma che vitina ha quella, stretta stretta? Grazie. Ma che vitina ha quella, stretta stretta? Alla One Piece! Personaggi di One Piece, sotto la vitina stretta c'è... E' quello che ha cambiato? Sa Representatives here... Ah, Harry e suo figlio, Tim, aveva, che esera! Volentare, non si sa e? Ma che è? Ma che vuoi? Ma che vuoi... Ma che vuoi? Ma che vuoi? Non per esempio, dove誤à... Ma che vuoi? Si... Ma che vuoi suri... E che vuoi... sembra ignoro dell'incontro tra Baker e Holiday mi sono diretto al PCL o PCL Pokémon comprensive 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 si praticamente comprensivo proprio papale papale si parliamo con la gente dovrebbe lasciarci entrare sono un po' nervoso mi raccomando calma il sangue freddo e non dimenticare la cosa più importante qualcuno qui dentro potrebbe avere a che fare con la scomparsa di tuo padre e quel qualcuno si sospettirebbe se sapesse che tu sei suo figlio quindi dobbiamo trovarti un altro cognome qui dentro sarai Tim Hotman ok Pikachu farò attenzione ah ok comprensive laboratory non so laboratory in inglese è sempre stata una parola un po' ostica per me laboratory dovrebbe essere Tim Goodman ma è Tim Ottman Ottman Rita Partridge oh ha il pollice verde mi sembra bianco però vabbè se ragazzo partai scusatemi scusatemi lui come si è registrato lì al laboratorio pica 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 Sono pronto Giusto per essere sicuri Ti non sai cos'è una fiala Giusto Certo Ottimo Mi raccomando Da non confondere con le provette Ah È vero Cavolo Diverso Ok Ora siamo pronti Fluetto Che ci fai lì Ok Ora siamo pronti per cominciare la ricerca Per trovare le fiali Dobbiamo innanzitutto Conoscere meglio la struttura del PCL Cerchiamo una mappa Ottima Vediamo se ce n'è uno in giro Chi chiama Fluetti Che sta svolazzendo qui I fiori Ve ne occupate tu e Rita Perfetto Allora una mappa Una mappa Mi scusi Rita Ha una mappa La mappa Ecco c'era lei C'è una mappa della PCL da qualche parte C'è una appesa al muro Sopra la fotocopiatrice Davvero Mi scusi sono cieco Guarda Pikachu Ottimo lavoro È una mappa della struttura Il triangolo rosso Indica dove siamo noi Esatto A sinistra c'è la A E al centro c'è il cortile Wow Questo ragazzo è perspicace Sembra che l'unico modo Per raggiungere la labia a destra Sia attraversare il cortile Già Non vedo altri collegamenti Copiati questa mappa Mi raccomando E ricorda che stiamo cercando una fiala Ma la sono copiata Non è vero Io non ho fatto nulla Bene Vediamo un po' Dobbiamo andare in uno di quei due laboratori Ah devo accomodarmi? Ah ok si andiamo Ah ecco mi sembrava strano Dorothee Fischer Frideric Cartier Grazie a tutti Oh Siocior Grazie a tutti Grazie a tutti Non è preoccupato Grazie a tutti Grazie a tutti Non è proprio il piacere di conoscere Gimく Voglio aiutare il supporto di tutti Grazie a tutti Scusate a questo Fritch Grazie a tutti Grazie a tutti Assolutamente Eh, c'ha ragione Quando ha ragione Pikachu ha ragione Direi di andare allora Raggiungiamo Fridge, perfetto Tanto ho controllato tutto, ho controllato Ehi, Fridge Ti dispiace se... cosa? Di là c'è il cortile, vabbè, di lì devo andare, no? O non è? Das to Das Il problema dello smaltimento dei rifiuti Non ha senso Nina o Ara Ara Nemo a caso Voglio dire Ci sono i Mac di Alola Ne importate alcuni Ne importate Allora Cerchiamo di capire Che sta succedendo Wallace è uno dei ricercatori È un tipo un po' strano Cambia spesso il codice di eccesso al cortile senza dirci niente Il tuo compito è dare una mano un po' a tutti Ma per il momento non puoi accedere al resto del laboratorio Dobbiamo prima trovare il codice di eccesso al cortile Wallace Fa spesso cose del genere Ogni volta che arriva uno nuovo Si inventano delle sue trovate Il fatto è che una volta a causa di una svista di un nuovo arrivato Ha perso mesi di ricerche Da allora è sempre severissimo con quelli nuovi Perché non provi a risolvere il suo enigma Io intanto preparo il mio esperimento Qual è il suo enigma? Ah ok Gente strana Piacere di conoscerti Sei un ragazzo serio Con la testa sulle spalle E com'è carino il tuo Pikachu Anche se non puoi capirmi Ok E le ricerche Non so Poi dobbiamo vedere le ricerche Sto cercando di creare una medicina da bere per i Pokémon Con l'aiuto della mia Shackle Ma ho bisogno di accedere a cortile per proseguire il mio lavoro Le bacche che mi servono per ottenere la mia medicina sono lì E anche la mia Shackle Di Garbador che mi dici? So solo quello che ho sentito da Fridge Mangia rifiuti e li trasforma in gas velenosi Io lo trovo carino Peccato che abbia un aletto terribile Dateri da mangiare qualche mentina Già non credo che abbia l'abitudine di lavarsi i denti Beh non credo sia quello il suo problema Anche perchè sendo un Pokémon venenoso Gli piace avere gli anticariati Purtroppo se ogni volta che arriva un nuovo blocco a accesso a cortile Ho visto che ha scritto l'enigma sulla lavagna della sala di riunioni Oh L'enigma sulla sala di riunioni Ok Dov'è la sala di riunioni? Però io non mi ricordo Oi Pikachu Ok ok Tim Beh non mi ricordo che non mi ricordo che non mi ricordo l'abitudine di lavarsi i denti Ma non mi ricordo che non mi ricordo che non mi ricordo Ok un laboratorio Sappiamo qual è Vediamo un po' un attimo la mappa Allora io devo andare praticamente da qua Devo si attraversare il cortile e una di questi tre Ok Quindi faccio così Andiamo un po' Sala di riunioni È chiusa Officio della direttrice Qui allora La sala di riunioni Dovrebbe essere Una tabella Ok l'enigma di Wallace Esaminare piante Piace divertirsi con cose di questo genere Inizio l'enigma di Wallace Fammi un po' vedere Allora Elettro spettro Spettro erba Veleno e fuoco Devo probabilmente sì Collegare ogni Pokémon al tipo che c'è scritto lì Che Oddio però Non sono proprio sicuro al 100% Niente Direi che possiamo andare Allora Esaminare le piante Dicevo di esaminare le piante Quindi Niente di strano Ok Qui non c'è niente Bluette I fiori ok Tu Ok Wallace ha fatto L'accesso a Cori Ok C'è l'accesso E La direttrice Vediamo un po' Fridge Fridge è un tipo di strato Ok Fluette Invece È molto dolce Primorosa Ma anche Topicace Adorabile Quindi nulla Questa porta Questa è la porta nuova Sì ok Ah le piante Ci sono qui le piante Non sembra niente di speciale quella pianta Mi dispiace E questa allora Eccola Pikachu guarda questo foglio Sembrano di simboli Cosa saranno Vediamo Zero Shackle Triangolo Rotom Quadrato Fennekin Rombo Trevenant Triangolo Rovesciato Fluette Stella Garbodor Oh ci sono È la chiave di lettura del codice D'accesso Sostituendo ogni pokemon Con il suo simbolo Troveremo il codice Per aprire la porta Ottima intuizione Team Tocca e pulsante Appunti Risolviamo questo enigma Ottimo Trovo il codice D'accesso Bene Sarà facile Ok Siamo con Rotom Elettro Spettro Spettro Erba E Veleno No Aspetta fuoco Fennekin Ok Beh è facile Dona guarda il tipo di pokemon Perfetto 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 Facile no? Però c'è questo libro qui che è in mezzo Che c'è pikachu Cos'è? Ma hai il pelo Hai la pelliccia Di che ti lamenti? I pikachu Non soffrono E' freddo Stai scherzando? Freddo Oddio Il fresco Stanno bene a fresco Al caldo pure Ma Ok Ok No questi non mi interessano Già so di cosa parlano Non a caso Conosco tutte quante La mitologia Di pokemon Ebbene Allora Chiaver accesso Mettiamola un po' One say Il codice Si Se mi ricordassi qual era Triangolo Stella Rombo quadrato Triangolo Ah eccoci Stella Rombo Quadrato Buono Ottimo lavoro team Adesso possiamo andare in cortile E andiamo in cortile allora Oddio che voce che c'ha Sì i pokemon proprio Andano la voce carina Quando sono piccoli Però quando crescono Bene Ciao fan Ciao fan E il piano fan Che c'è Pikachu Oltre al cortile C'è la labili Ci sono altri Ricercatori Giusto Andiamo a presentarci E diamo un'occhiata Alle fiale Va bene Pikachu Ma perché Sei sempre così Odioso Guarda che bello Qua tutti quanti Pampkaboo Phantom Non Pampkaboo È diverso Senti hai visto una fiala Come questa Ah è un'informazione Importante per me Dimmi pure Quindi posticino Migliore per schiacciare Un pisolino Alla panca Veramente Mi è interessato Sapere della fiala Della fiala Capisco Non ne sa niente Della fiala Questo cortile È magnifico Se tu occuparti Nessimo tre Evidente Fluet Capisco Ecco perché Le piante qui Sono così Rigogliose Tre Evidente Oh Ehi lab Cero di Conoscerti Accidenti Come sei alto E abbiamo visto Una fiala Come questa Come dice Nina Ha delle fiale Simili Abbiamo Mettato Un indice Importantissimo È ancora Presto per Risultare Tim Dobbiamo Verificare Di persona È proprio Un bel Cortile Le piante Qui Sono così Rigogliose Tim Ti ho Copito Degli alberi Insieme A phantom E a Fluet Shackle Fennekin Che mi Dici È davvero Una bella Giornata La fiala Hai mai visto Una fiala Come questa Come non Sai che Fartene Non avevo Intenzione Di dartela Ho capito Ho capito Dalla Mi Vista Ehi come va Siamo nuovi Qui Spero Che andremo D'accordo Che tipo È Nina Dice Che la riempie Sempre Il guscio Di cose Di ogni Genere Ma a parte Questo È contenta Perché gioca Spesso Con lei Dimmi Hai mai visto Una fiala Come questa Come è un po' Piccolo Per essere Un guscio No No Sembra che non Ne sappia Nulla Eh già Va bene Allora prima di tornare Da Nina A dirle che abbiamo Aperto il cortile Anche da quell'altro Tizio Direi di andare Ma cos'è Un mazzo di chiavi Dai Povero Klefki Rilegato a Pokémon Portachiavi E dai siamo Novi qui Oggi è il nostro Primo giorno di lavoro Preciero di Conoscerti Eh che ti prende Non ti vede Vuoi prenderti di noi Il magazzino Abbiamo bisogno Di accedere al magazzino Si trova qui Nell'Arabì Giusto Come ricci Le chiavi del magazzino Delle tume Fai entrare Solo quello di cui ti fidi Ti puoi fidare Di noi siamo qui Per aiutarvi Niente da fare Non ti fidi Cosa dobbiamo fare Per guadagnarci La tua fiducia Ah vorresti Che ti portassimo Uno di quei succhi Che fa Shackle Non è la medicina Questa lavorandonina Ma un semplice succo Però si accontenta Di poco Deve avere una grande Considerazione Per Shackle Non è a merito Di Shackle Ma solo delle mie Strabilianti Abilità diplomatiche Va bene Clef che abbiamo capito Torneremo con il succo Perfetto allora Io penso Che bisogna solo Chiedere a Shackle Perché Shackle In genere Quando tiene le bacche Quando tiene a lungo Le bacche Nella seconda generazione Shackle Quando teneva una bacca A lungo Camminando ovviamente Si intende sempre Di camminare La bacca diventava Succo di bacca Se la teneva Ancora più a lungo Dal succo di bacca Diventava una caramella rara Poi Della terza generazione In poi l'hanno tolta Non so perché Beh certo In effetti Se Tu Tieni Puoi fare Delle caramelle rare Tante quante ne vuoi Da bacca arancia Diventerebbe caramella rara Ovvio Però Insomma Non è che uno Perde Tutto sto tempo Solo per fare Le caramelle rare Anzi C'era il glitch Del cloning Per clonare i pokemon Quindi Le bacche Lasciate nel suo guscio Si trasformano in succo Con gli ingredienti giusti Si possono ottenere Delle medicine Che effetti Ha la medicina Che vuole produrre Serve a mantenere In salute i pokemon Vorrei dargli Un buon sapore di frutta E un bel colore arancione Il colore è importante Sai Deve trasmettere Un senso di benessere Devo solo combinare Due bacche E aggiungere Del liquido E il gioco è fatto Del liquido Il succo Avremo un favore Da chiederti Potresti fare Del succo Per noi Capisco Capisco Ora dopo Ci sono delle bacche Per un esperimento Allora aspetteremo Che l'esperimento Sia finito Torneremo più tardi Ehm È chiusa a chiave Che c'è Pikachu? Beh Non è una cosa Insomma Da Da sottovalutare Da trascurare Nandarò Con C'è Grazie a tutti. 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 Non è... Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Ehm... Grazie a tutti. E va bene, quindi abbiamo fatto, possiamo portare... Fa' attenzione, non dimentichiamoci il magazzino. Ok, andiamo da Klefki, dai! Ora che abbiamo la super pozione curativa, succo d'arancia, quello che è. Le chiavi... No, aspetta, non... No, le chiavi, il magazzino, su. Ah, ce lo fa Shackle, sì, perfetto, meno male. Ora possiamo andare da Klefki, dargli quel succo o darle, non so. Dipende che tipo è. Ah no, mi sembrava che sarà bloccato tutto, calmati. Perfetto, ora che abbiamo dato il succo a Klefki... Intento a non far cascare le altre. Grazie, Klefki. Come sei caro, gentile, come è umano, lei. Prega, ci buttiamoci subito alla ricerca delle fiali. Ui! Ok, non sono queste. Continuiamo a cercare allora... Questo è un nebulizzatore. Lo spruzzino, come lo chiamiamo noi in gergo. Noi poveri esseri umani. Qui non c'è. Vediamo un po' su questo scaffale. Eh no, solo droghe. Sostanze chimiche, dai. Da qui poi si ricava la droga, in effetti. È una cosa un po' strana se ci pensiamo, perché... In effetti, no... Le medicine... Sarevano anche per fare droga, quindi... È molto strano. Eh, non è vero, Pikachu? Oh, ricordatevi. Eh, non è vero. È stesso che ho trovato i propri di scuola in un'altra parte. Sì, è vero. Ho fatto. È vero che c'è questo, in questo studio. Oh. E se si sente che qualcuno sta spiando Sordi? Secondo me Quella sostanza altera le prestazioni Dei Pokémon E gli fa avere un boost di energia Che si trasforma in rabbia E quindi non potendo sfogarsi Loro attaccano tutto e tutto Cioè non potendo Dovendo sfogarsi perché hanno troppa energia Attaccano tutto e tutti Secondo me Però Terminato il primo giorno di lavoro Io e Pikachu siamo tornati al locale di Pablo Uh Un bel caffettino in compagnia di Pablino Ah Chi è usato questo ampoule? Sì 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 Un po' Non è nulla Ho fatto un nuovo lavoro E ho fatto un nuovo lavoro E ho ricordato di ricordare Ah È un lavoro di PCL Sono asciugati Sì Con me Mora E giornata C'è behalf Ave problemi Tappule No, non mi prendi un po' di non mi cuore! L'Umpampa! Hai fatto bene, tu ti prendi? Oh, sì, grazie, L'Umpappa. Oh, l'Umpappa! L'Umpappa! Mmmmm, la tua tua hait è buona! Ah, miete, ma la sua parte di Pabllo è la mia! Ah, miete! Ah, miete! Ebbè, vuoi andare andiamo? Uh, attenzione. Questa è la situazione. Come devo procedere? Il figlio di Harry. Okarimashita. Ricevuto. Oh, yokai. È il mio secondo giorno di lavoro. Devo scoprire da dove viene quella fiala. Yokai si dice anche per dire ok. Yokai. Perché c'è modo di dirlo. Oppure Wakari Mashita. Buongiorno. Ah, le mie imprese di ieri. Che c'è Pikachu? Kamehame. Ah, attacco rapido. Niente. Da come si caricava. Ah, pensavo di come può fare la Kamehameha. Non era granché Pikachu. Non ci siamo. Mentira se ti dicessi che sei bravo. Sei una mezza pippa. Ok? Eh, sei pessimo. Si va bene, senti. Che vuoi? Voi pure in cortile. Ma come? Non mi comandare, donna. Non ho bisogno di due consigli. Ok, andiamo subito in cortile. Non perdiamo tempo. Vediamo cosa hanno da dirci. Ah, oggi c'è il reportage. Oh, sicuramente qualche Pokémon va in escandescenza. Sicuramente, sicuramente. Signorina. Ciascun ricercatore presenterà le sue ricerche. Comincerà Nina. Seguite la vuole. Il reportage. Quindi nulla. Ehi. Meiko. Che ci fate voi due qui? Ehi. Insomma, stiamo lavorando. E il reportage? Nulla di che. Sì, diamo subito una mano. Iniziamo, non perdiamo tempo. Perché il bello deve venire ora. Ma sì, va bene, va bene. Perfetto, ok, perfetto. Ok, ok, ok. Ok, cheat. Quanto sta a mangiare? Oh, attenzione! Ma si arrabbia? Ma si arrabbia? Ma si arrabbia? Mamma mia! Ma si arrabbia? oi cavolo si è arrabbiata mi sono dimenticato di raggiungere una cosa dopo che hanno che hanno sato tutte le loro energie rimango senza forze è vero è vero ho pensato che c'era una cosa ma non potete capire non potete capire un po' Oris si è vero 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 vediamo perfetto è vero in questo video in questo video lo vediamo è vero 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 sembra è vero è vero è vero questo è vero è vero Voi, guarda un po' di video. Certo, è molto bello. Questo è sempre come la città. Non si può dire, non si può dire. 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 Oh, un po' di blu, un po' di polizia. Un po' di polizia. Hai una roba di polizia? E... come si tratta di un po' di mangiare? Se pensi, Orrot ha avuto il giorno, dopo il giorno. Quindi cosa? Orot ha avuto un po' di bella. Beh, meno male. Cosa sarà quell'ombra oscura nel video? Non mi sembra che ci sia un Pokémon simile qui. Nemmeno io ho mai visto un Pokémon simile. Wallace, spero che questo video sia servito a dimostrare la mia innocenza. Come ha visto quando Trevenant ha perso il controllo e ha apparso un Pokémon misterioso. Dunque stai dicendo che il colpevole è quel Pokémon? Esatto. Sono sicuro che se lo catturiamo ne avremo di più su questo incidente. Sono d'accordo. Dorothy che dice di affidare a Tim la ricerca di quel Pokémon? A Tim? Sì, d'altronde è stato d'accordo di accorgersi per primo del Pokémon misterioso. Senza contare tutti gli altri casi che ha risolto finora. Non pensavo che fossi così in gamba, Tim. Allora va bene. Non possiamo certo ignorare il problema, ma contiamo sull'idea, Tim. Va bene, ci penserò io. Indaga pure se ti va. Sappi però che non sono affatto convinto della tua innocenza. È assurda la cosa. Svela il mistero dell'ombra sinistra. Monetaria venendo ha perso il controllo vicino a lui c'era un'ombra scura. Dobbiamo scoprire cos'era. E ad ora scopriamolo? Dunque, Wallace non sa nulla. Lei, signora, non sa molto. Ma niente. I rapporti sui fantasmi. Oh, attenzione. Potrebbe avere a che fare con Carlos e con il suo esperimento? Al momento però li hanno i miei colleghi. Ah, ok. I rapporti sui fantasmi li hanno i suoi colleghi. Carlos, secondo me. Non è di chi possa essere il Pokémon misterioso a voi, ma ancora lo chiedo. Siete inutili? Sto pensando quello che sto pensando io. Non ho detto nulla agli altri, ma dietro a questa stella deve esserci qualcuno. Quel Pokémon misterioso non è vero colpevole. Qualcuno lo sta controllando. Esatto. Trevent si è comportato proprio come Gleli. Ho come l'impressione che questi incidenti siano collegati alla scomparsa di Harry. Lo penso anch'io. Dovevo far luce su quello che è successo. La prima cosa da fare è capire chi è quel Pokémon. Come procedere? Semplice. Non dimenticare mai le basi, Tim. Bisogna raccogliere delle testimonianze. Chiediamo ai ricercatori e a Pokémon se sanno qualcosa del misterioso. Ai ricercatori ho chiesto e non sanno nulla. E Pokémon misterioso? L'ha sentito parlare? Cosa ha detto? Io vivevo qui prima di voi. Sei sicura? È una Fennekin. È una Fennekin, non un Fennekin. Va bene. Questo gioco è sessista. Tutti, ma tutte femmine sono. Il Pokémon misterioso? Che ti ha detto? Non hai visto nulla. Pensava solo a mangiare. Bravo Trevenant. Così abbuffava mentre noi lavoravamo. Che casino che ha combinato. Bacana. Che ha visto? Che ha visto? Non si sa. Beh, ti sei nascosta nel tuo cuscio e non ti sei fatta niente. Meno male. Per caso sai qualcosa di quel Pokémon? Che cosa? Lo vedi molto spesso? Chi è? E cosa hai? Dici tutto. Capisco. Non sai chi è, ma a volte viene a mangiarsi il vostro cibo. Molto importante questa cosa. Vediamo che ci dice Phantamp invece. Si è nascosta anche Phantamp. Prima è apparso un Pokémon sconosciuto vicino a Trevenant. Per caso ne sai qualcosa? Quindi a volte ti sembra di sentire una strana presenza. E l'hai sentita anche prima? Pensi che sia lo stesso Pokémon? Che sia, non che stia. Ti sei girato ed era sparito. Quindi non ne ho potuto vederlo. Pazienza. Andiamo a parlare anche... A questo punto sapete che farei? Parlerai anche con Rotom. Nel caso. Oltre che Clefki. Perché... È una cosa molto strana. Nel cortile appare spesso un Pokémon misterioso. Sai chi è? Come come non è passato di qua, ma sai di chi sto parlando? Esatto, un'ombra scura. Interessante. L'hai visto una notte in questo corridoio? E hai pensato fosse un ladro? L'hai seguito ma su più bello e sbagliato nel nulla si chignazzando. Gengar o Miss Magius. Da quella forma poteva essere solo uno di quei due. E penso che sia Gengar, perché Gengar è figo. Vediamo un po' qua. Carlos non si è presentato. Potrebbe non significare nulla, però, eh. Vediamo un po' che ci dice Rotom. Quel Pokémon ha una bella faccia tosta? Dice che l'unico mistero del laboratorio deve essere lui. Che testimonianza inutile. In effetti è Gengar che sghignazza e non Miss Magius, quindi... Gli rapporti sui fantasmi. Non credo ai fantasmi. Dei pure un'occhiata se vuoi, grazie. Fantasmi, oddio. Sempre con Miss Magius, però è Gengar. Gengar è quello che ride sempre. Non saprei proprio, non trovo di aver mai visto un Pokémon simile in vita mia. Vediamo un po' un attimo gli appunti. È Gengar! È Gengar, i bracci di Gengar. Allora, indizi. Rapporto sui fantasmi. Mi hanno raccontato che una volta il lancetto dell'orologio della direttrice hanno cominciato a girare all'impazzata. Tornato normale. Rapporto sui fantasmi 3. Ah, ok, quindi devo trovarne altri. Probabilmente un altro ce l'avrebbe... Ce l'ha Wallace, può essere? Può essere che ce l'ha Wallace. Oppure che l'abbia lasciato... Cosa? Ti sei teletrasportato? Pokémon misterioso. Non ho mai visto un Pokémon simile. No, 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 nulla? Questo, forse? Allora, ricerca sulla telepatia. E niente, qui non c'è... Che c'è, Pikachu? La stanza è buia, mi dispiace. No. Devi adenarti, bello mio. Secondo me, una volta finita sta storia, Pikachu torna a essere un semplice Pikachu. Fridge mi aveva chiesto di fare una cosa per lui, cercare nei cestini e poi portarglieli. Ah, la direttrice, andiamo nell'ufficio della direttrice. Un mincino! Mincino, adora fare le pulizie. Sì, però quando si sporca va a pulirsi con l'acqua di fonte. Le pulizie. Che si dice? Stiamo cercando dei rifiuti per l'esperimento di Fridge. Una lattina vuota, grazie mille. Garbodor? Si è arrabbiato con te perché quando l'hai visto pensavi che fosse spazzatura e cercato di buttarlo via. Poi ti si è fatto perdonare regalandogli dei rifiuti da mangiare ai nostri amici, meno male. E del Pokémon misterioso? Ne sai qualcosa? Come dici una volta, Rotom si è nascotto in un orologio. Interessante, continua. Le lancette hanno cominciato a girare fortissimo. Ok, quindi quella dell'orologio impazzito era quella di Rotom. Nulla di che. Ti guarda perché sei innamorato. O innamorata. Non so se è femmina o maschio. Non l'ha spiegato. Ho sentito che ha avuto un primo giorno di lavoro piuttosto complicato. Mi spiace. Però sei stato davvero bravo a risolvere l'enigma di Wallace. Ok, ora si occupa di rapporti e cose varie. Lei ha un rapporto su Fantasma? Numero 1. Ottimo. Del Pokémon misterioso invece non sa nulla. Vediamo di controllare gli indizi, allora. Rapporto su Fantasma. Stavo mangiando i pranzi in cortile. Quando all'improvviso mi sono accorta che io Sandwich era sparito. Non c'era nessuno. È sicuramente stato Gengar, allora, che aveva fame. Beh, potrebbe anche semplicemente chiederti panino. Oh, io ho fame. Mi dai un panino? La testimonianza di Pokémon di Rapporti di Ninos i Fantasmi. Fammi controllare bene. No, ho già controllato. Non serve. Ho un torsolo di mela. Un lattina vuota. Pensi che possa bastare? Ah, non basta. I rapporti sui Fantasmi. Ah, l'ho già letto. Perfetto. E il Pokémon misterioso non ha idea di chi sia. Vediamo un po' questo rapporto sui Fantasmi. Allora. Il numero 2, che è nuovo. Mi non è piacevole giornata di sole e stavo lavorando la mia ricerca. Quando all'improvviso l'aria si è fatta così fredda che ho cominciato a tremare. Ho controllato il termostato e la temperatura era scesa di 5 gradi. Accidenti. Dunque, sul tavolo di Nino dovrebbe esserci questo foglio. Ok. Rapporto sui Fantasmi numero 4. Spero sia l'ultimo. 5. Ok, 5. Solo 5 in totale. Mi sbaglio sempre. Io sono abitato con X che apro il menu. Invece con X qua si parla con Pikachu. Era sera o tardi c'era un forte vento. Avevo lavorato fino a tardi ed ero solo. All'improvviso ho sentito come se qualcuno mi stesse fissando. Mi sono aggirata ma non c'era nessuno. Ok, andiamo avanti. 5. Volevo scorrere ma... Ecco, con RL. Questa vicenda è caduta nell'ala B, una notte di pioggia. All'improvviso nel silenzio è risuonato una risata inquietante. Sono corso a controllare ma il corridoio era deserta. E la risata era eserto. E la risata era svanita. Aiutiamo Furiju? Ok. La lattina vuota. Ok. Basta che io dica a lui quello che voglio e... E ok, quindi parte. Perfetto. Non si è purificato molto. Ok, ti posso dare torsolo di mela. Ok. Com'è andata stavolta? Uh. Ok, dati preziosi. Il Pokémon sapeva del Pokémon misterioso. Già, però nessuno... Nessuno sembra sapere chi si è esattamente. Andiamoci per vinti. Esaminiamo tutte le informazioni che abbiamo raccolto. I rapporti di Ninos e Fantasmi. Dobbiamo solo assicurarci che non abbia lasciato l'edificio. Andiamo alla reception e chiediamo a Rita. E lei è un po' strana rispetto all'altra volta. E' stato Trevenant, ha perso il controllo. Tutto a posto per fortuna. Sembra che nel laboratorio si aggiri un Pokémon misterioso. Probabilmente che lo possesse Trevenant ha perso il controllo. Per caso ha visto un Pokémon scappare da questa parte? No, da qui non è passato nessuno, né Pokémon né persone. Adesso controllo delle telecamere di sorveglianza non si sa mai. Gengar odia la luce del sole. A meno che non è obbligato a combattere per il suo allenatore. Le registrazioni. Vediamo un po' cosa ha ripreso, signorina. Basta premere qui e... Ah? Fridge? Oh, scusa, ho sbagliato il giorno. Questi sono di ieri. Sai, non capita spesso di controllare i video. Allora, apriamo quest'altro pulsante. Sembra che nessuno sia uscito di qui dopo l'incidente Trevenant. Perfetto. Significa che chi cerchiamo è ancora qui dentro. Ok. Quindi se è ancora qui... Deve essere in cortile. Il nuovo laboratorio? Deve sapere che questo laboratorio è stato ricostruito più di dieci anni fa. E come mai l'edificio precedente era molto vecchio? Non proprio. La storia che ho sentito è un po' diversa. A quanto pare c'è stato un incidente. Qualcosa ha perso il controllo durante l'esperimento distruggendo tutto. Purtroppo non conosco i dettagli. La direttrice dovrebbe saperne di più. Andiamo a parlare con la direttrice... Oh, vuoi vedere che c'era un Pokémon che Gengar abitava qui? E quindi dice... È per questo che ha detto io abito qui da molto più tempo di voi. Eh, sì, sì, sì. La direttrice sa qualcosa, allora. Direttrice? Dimmi tutto, Tim. Mi hanno detto che questo laboratorio è stato ricostruito tempo fa. Vorrei sapere di più. Credi che ci possa essere un legame fra il Pokémon misterioso e il vecchio laboratorio? Io non so molto di quello che è successo in passato, ma abbiamo dei documenti. Prova a guardare in biblioteca. Nel secondo scaffale partendo da in fondo alla stanza. Nel secondo scaffale partendo da in fondo alla stanza. Tanto ci sarà sicuramente l'occhietto, quindi è inutile che mi preoccupi più di tanto. Oddio, il laboratorio dove... la biblioteca era questa, sì. Era vicino al laboratorio. Partendo da in fondo alla stanza. No. Ah, ecco. No, questo è il nuovo laboratorio. È rimasto chiuso per due anni. Deve essere proprio ridotto male alla distruzione. No, un Pokémon che ha perso improvvisamente il controllo. Non possiamo continuare a svolgere le nostre attività in questa struttura. Finalmente sappiamo cos'è successo. C'è stato un incidente che ha distrutto il laboratorio e hanno dovuto chiudere. I fondatori. Ci sono anche dei Pokémon. Herdier, Gengar, Mudkip e Eipom. Possibile che quegli Eipom fossero in combutta con Gengar? Quelli del primo capitolo intendo. Dato che c'era anche Eipom. C'è ancora uno scaffale sulla biblioteca che noi abbiamo salminato a fondo. Aspetta. No, 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 no. Gengar, eccolo. Si nasconde nell'ombra. C'è scritto che quando Gengar è in una stanza, la temperatura si abbassa di 5 gradi. Dai, Pikachu. Ci sei arrivato, non amai, no? Eccolo qua. Ti ricordi quello che ha detto Fennekin? Le parole del Pokémon misterioso. Io vivevo qui prima di voi. Sì, vi ricordo. Ah, ma allora... Il Pokémon misterioso era uno dei Pokémon del vecchio laboratorio. Già, e molto probabilmente vive ancora qui. Ha sicuramente a che fare con le storie dei fantasmi documentati da Nina. Deve essere uno dei Pokémon che si vedono nella foto dei fondatori del PCL. Diamo un'occhiata a indizi. Oh, dai. Eccolo qua. 20 anni fa. Mi mancherebbe di andare un'altra volta qui. Però penso che Fridge sia l'unico con cui non ho parlato è stato Fridge, quindi... Sì, andiamo a parlare con Fridge. Vediamo un po'. Fridge sicuramente sa qualcosa. Non può non sapere nulla. Deve sapere. E là, il vecchio laboratorio. Penso che abbia qualche annesso con l'incidente di oggi. Una volta Dorothy ci ha detto che nei vecchi laboratori si facevano esperimenti pericolosi. Devo andare a parlare con Dorothy di questi esperimenti pericolosi. A questo punto penso che l'unica cosa da fare sia l'indizi. Da qui. Dai, su, oramai. È l'unico. Può essere solo lui. Dai. Come lo sai? Così. Eh già. Come ha fatto? Si sposta senza farsi notare. Nascondandosi nelle ombre. Sì. L'unico è stato spostato in Oorot. L'unico è stato spostato in video. L'unico è stato spostato dal lontano. L'unico è stato spostato dal lontano. Sì. Grande. Quindi ora? Dobbiamo solo provarlo. È nascosto in una stanza fredda? Ah. E so benissimo dov'è. Che stai facendo là, Pikachu? Mi sono spostato mezz'ora fa. È nascosto qua dentro. Gengar dovrebbe essere in questa stanza. Già, ma dove? Non si vede nessuno. Proviamo. Ehi, Gengar! Vieni fuori! Niente da fare. Mi ignora. Che maleducato. Si sarà nascosto in qualche ombra. Dobbiamo trovare un modo per far riuscire allo scoperto. Qualche idea, Tim? Usiamo una torcia. Forse andiamo a cercare una torcia. So già dov'è. Ah no, già ce l'hanno fatto loro. Gengar, dove sei障bato? Oh, è venuto? Ho scoperto. Ho scoperto, ragazzi. Ho scoperto, ragazzi. Gengar, 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 Gengar. Palla ombra. No, ma lo sguardo, a storduraggio. Non si capisce bene qua quali sono le mosse. Facciamone malo sguardo a lui. Come facciamo a non farlo fuggire? Non è facile. Chiediamo o a Dorothy o a Fridge a questo punto. Allora, che mi sa dire? Come lo catturo? Quindi catturarlo non sarà facile. Forse potrebbe esserti utilizzare uno strumento che ho realizzato tempo fa quando mi occupavo dei metodi di ricattura dei Pokémon. Dovrebbe funzionare anche sui Pokémon Spettro e in magazzino. Grazie. Grazie, direttrice. Almeno lei è utile a qualcosa. Grazie, signora direttrice in magazzino. Ok, andiamo. Devo farmi tutto quanto un'altra volta alla strada. Ah! Questo dovrebbe essere. Strumento per catturare Pokémon. Bene. Alla fine devo vedere che Gengar voleva solo giocare. Perfetto, Pikachu. Lo cattureremo con questo strumento. Ghostbusters! Gengiru! Si è arrivato? Ora non ti farò fuori. Gengiru! Gengiru! Ah! Perfetto, allora. Perfetto, allora. Devo sproparlarti, Gengar. Non ti preoccupare. Mi avvicinerò piano piano a te, eh. Interroghiamolo. F.D. Sto andando. Questo è黒mato. Probabilmente chi è il risultato. Perfetto. Perfetto. Devo essere pure. Perfetto. 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 piccantissima che ti ha dato un tuo amico, piantali di dire bugie, non sapevi davvero nulla, comunque belli amici che hai, complimenti, dai su, non è colpo sua, probabilmente è l'unico amico che ha, è un essere umano, indossa un camice bianco, lo sapevo, è uno dei ricercatori del PCL, dici qualcosa di più, non ricordi altro, capisco, c'è altro che ti viene in mente, capisco, e così questo amico usava un passaggio segreto in biblioteca per venire a trovarti, cosa sarebbe questo passaggio segreto? Vediamo, come? Nello scaffale centrale ci sono 4 libri con dei simboli colorati, giallo, blu, verde e rosso, estraendoli in questo ordine si avrà passaggio segreto, interessante, cosa c'è oltre questo passaggio? Come? Hai già detto anche troppo, ti hanno fatto promettere di ritenere il segreto? Ho capito, non c'è bisogno di dire altro, andremo a vedere di persona, bene allora, andiamo subito a controllare, oh e quando la faccenda si intriga ragazzi è interessantissimo, giallo, blu, verde e rosso, vediamo un po', giallo, blu, poi verde e quindi infine rosso ecco Sì, è un po' abbastanza brutto. Oh, c'è una porta! Aggiungi! Andiamo! Non c'è nessuno. Gengar ha guardato questo luogo? Che cosa... questo dispositivo? Hmm... O-Roth ha avuto un'attività con l'ordine dell'O-Roth. Vediamo. Sì. Una grande scoperta. Ed è l'anno scorso. Mentre facevo ricerca in biblioteca ho scoperto dei vecchi documenti dove si parlava di questa stanza. Sembra che qui lo staff del vecchio laboratorio facesse degli esperimenti segreti. È quello che ha costato un incidente con un Pokémon che ha perso il controllo. Hmm... Sì. A quanto pare in questa stanza si lavorava allo sviluppo di una sostanza chiamata R. Si tratta di una sostanza che rende Pokémon più forti. Quello che ho detto io. I suoi effetti sono temporanei e produce pesanti effetti collaterali. Quello che stavo dicendo. Allo stato attuale non è utilizzabile. In ogni caso tutto c'è molto interessante. Per ora non ne farò parola con i miei colleghi. Siamo stato contattato da un tizio misterioso. Era interessato ad acquistare una sostanza in grado di far perdere il controllo ai Pokémon. Una sostanza che non sia identificabile e che non lasci tracce. Mi ha offerto una grossa somma di denaro ma a me servono i fondi per continuare queste ricerche. La gente R è perfetta per le esigenze del mio misterioso finanziatore. Gengar Ho scoperto che c'è qualcun altro in questa stanza. Gengar era il Pokémon di ricercatore del vecchio laboratorio. Sembra che abbia continuato a vivere qui dopo la chiusura del vecchio laboratorio. È stato via per un po', per questo l'ho incontrato solo ora. Gengar può andare e venire a suo piacimento. Infatti non compare nei video di sorveglianza. Non posso continuare così. Devo fare tutto di nascosto. La ricerca avanza a rilento. Devo spostare i macchinari in un posto sicuro dove potrò lavorare con più tranquillità. Devo studiare i macchinari per capire come spostarli. Questo è di poco fa. È vero. È il giorno del nostro arrivo. Ho finalmente finito di studiare i macchinari. Ora posso spostarli e continuare le mie ricerche sulla gente R con più tranquillità. Ok. La fiala. Oh. Mio padre stava indagando su di questo. Lo penso anch'io. Probabilmente è caduto nelle griffie di questo tizio. Che farà butto. Lo troverò e lo costringerò a confessare. Ah, quanto mi piacerebbe saper leggere come un doppiatore per dare la giusta enfasi a tutto quanto. Un vecchio quaderno con appunti su delle ricerche. Sembra che sia precedente alla ricostruzione del PCL. C'è un nome, John Walls. Sembra che sia stato scritto da lui. Ah, questo non mi è nuovo. Vediamo cosa c'è scritto. Dunque, ho realizzato questa sostanza combinando vari componenti e lasciando la riposa a bassa temperatura per un giorno. Tuttavia non ha gli effetti che speravo. Ho allestito un laboratorio sotterraneo per ottenere un ambiente ideale per i miei test. Sottoterra la temperatura è più stabile e posso svolgere gli esperimenti con più regolarità. Ma dopo innumerevoli tentativi non riesco ancora ad ottenere i risultati che vorrei. Ho cercato di rafforzare le capacità di guarigione dei Pokémon, ma gli effetti si sono rivelati troppo potenti. Ma non mi arrenderò. Riuscirò a produrre una medicina che guarisca qualunque problema dei Pokémon. La sostanza che ho prodotto oggi ha causato degli effetti ancora più potenti del solito. Ho chiesto chiarimenti a Simon e mi ha detto che per sbaglio ha lasciato il composto al riposo per una settimana. Gli effetti di questa sostanza non sono affatto quelli a cui miravo. Devo trovare un modo per stabilizzarli. Mi hanno imbrogliato. Mi hanno dato le cellule di un altro Pokémon. Questo spiega perché gli effetti della sostanza prodotta sono incontrollabili. Non avrei mai immaginato che quelle cellule appartenessero a Mewtwo. Di chi sono? In teoria, quando si parla di esperimenti Pokémon, viene sempre in mente il Mewtwo. Quindi potrebbe essere il Mewtwo? Potrebbe? Non si riesce a leggere. E le pagine successive saranno state strappate. Voglio sapere chi è quel Pokémon! Ora! Sì. Si, ho capito. Eh no 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 no! Qua war agli appunti del registro delle cerche? Ecco, ok. Ci serve un'ultima prova, cioè? La prova che è colpevole sarà qui dentro quando siamo arrivati. Credo di sapere dove trovarla. Potresti essere più preciso, Pikachu. Beh volevo solo mettere alla prova le tue capacità deluttive Forza usciamo di qui L'unica persona che si trovava qui a nostro arrivo È Dordi Può essere solo lei È l'unica L'unica che poteva essere qui L'unico modo che ho Per vedere se veramente era Dordi Che è entrata in biblioteca Dovrei vedere la registrazione Loro sono arrivati per primi Dordi, poi Nina e Fridge Vediamo il seguito È Wallace già Oh è entrato in biblioteca È uscito subito a forza da nascondere la chiave di lettura del codice d'accesso Guarda è andato dritto in sala di riunioni Avrà appeso l'enigma della lavagna Ed eccolo che esce di nuovo Non ti ho ancora perdonato Wallace Ecco che arriva Carlos È in biblioteca Qui si vedono Dorothy e Fridge che vanno verso la porta della reception Ah questi siamo noi Da qui in poi fino a quando abbiamo aperto la porta del cortile ci siamo solo noi in giro Lo sapevo La mia teoria era giusta Tim Stampiamo quello che abbiamo appena visto Immaginavo che me l'avresti chiesto Ecco qui Quindi È stato Carlos Allora 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 Il registro delle ricerche il quaderno con gli appunti sulle ricerche Allora 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 Guardate questo Qual empieza Allora Allora Hispana Allora 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 Non Allora chiamo 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 Sì, 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 sì. ... Non è stato un po' di mali. Il suo figlio è il suo figlio di Goodman. Il suo figlio di Goodman? Il mio nome è Tim Goodman. Il mio figlio di questo caso è il suo figlio di Harry Goodman. Il suo figlio di lui è stato portato a portare a portare qui. Cagliari, tu hai già conosciuto qualcosa? Sì, non è vero. Che... ... ... ... ... ... E' stato fatto, Pikachu. Allora, vi leggo questo uomo. Poi, vi mando a me, a me, a me, a me. Scusate. Carlos... Scusate. è il Gengar che fa, è il Gengar in Prigio e anche il Pikachu. Sì. Sì. In questo modo, l'applicazione è arrivata a un'applicazione, è vero. Sì. 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 Sono stato il nostro, dell'agenzia dell'agenzia interrogativista di Bayker e di Pikachu. Sì 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 Ma Sì Doing Sì Bisth git Sì giornate C'è l'ho fatto, Tim! Hai fatto bene, Tim? Sì. Hai detto che hai detto che hai avuto un lavoro in PCL in PCL. Hai avuto un po' di più? Ok. Hai fatto. Hai fatto. Hai fatto anche a Harry? Hai detto che hai detto anche a Harry. Hai detto che hai detto anche. Picachiu? Hai ancora un po' di più! Beh, ok. Ma questa volta è un po' di più di più. È un po' di più! Allora, resta un po' di più! Abbiamo deciso di tornare dall'appartamento per cercare di chiarirci le idee Sulla serie di eventi che si sono succeduti finora Allora Pikachu Ah che giornata Allora che te ne parli questo caso La cosa positiva è che abbiamo trovato qualche indizio sul mio padre Ma se abbiamo trovato qualche risposta le nuove domande sono molte di più Chi è il personaggio misterioso che ha contattato Carlos per comprare l'agente R? Già Carlos potrà anche essere responsabile dell'incidente di Harry Ma restano molti misteri Temo che le indagini si faranno sempre più pericolose Ma ce la faremo vedrai Resolveremo tutti i misteri e arriveremo alla verità A proposito Grazie per il tuo prezioso aiuto Eh? Non fare quella faccia Certo Le mie deluzioni sono state fondamentali Ma anche se ho fatto la tua parte più volte mi hai salvato Quando sono caduto dal nido di Markrow Quando Gengar ci ha attaccati Insomma grazie A proposito Tim Quando hai cominciato a sospettare di Carlos? Quando abbiamo trovato il passaggio segreto ma In pratica proprio quando anche io ho cominciato a sospettare di lui Veramente sospettavo di un'altra persona ma Non male si vede che ci sai fare Mai quanto me sia chiaro Comunque sia Non posso restare qui ad aspettare con le mani in mano Ti capisco vuoi andare? Eh? E dove? Beh non possiamo assistere all'interrogatorio Ma possiamo certo andare a fare un giro Prendiamo la macchina Luogo dell'incidente di Harry Prendiamo la macchina Sì Sto farò che io mi sono un'escalante, non? Non è vero. Questa è una stessa in cui tu hai il mio padre? Ah... Non... Ah... Hai... 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 Eccolo Eccolo Lo dicevo io Mamma mia Lo sapevo io che c'era lui Lo sapevo E vedi allora che ci azzecco Quando dico le cose Vuoi continuare a giocare Bello schermo del titolo Mamma mia Che capitolozzo Bello lungo mi è piaciuto un sacco E il stack di tu che si è finito Anche a caricare nel frattempo E che dire Mo si che sta diventando davvero interessante il gioco Se i prossimi capitoli Mantengono questo Non dico questa lunghezza Però comunque sia Questo flow Questo proseguimento Questa Questa Questo intrigo Che c'è stato nel terzo capitolo Allora davvero Il gioco potrebbe rivelarsi Più che un semplice passatempo Allora di modo Per questo video è tutto Io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito In descrizione Il link per twitter E anche per instagram E come sempre Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Bye 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 Grazie a tutti.